ciao fanciulle benvenuti in un nuovo video avevo terminato il video scorso che sono andata a riguardarmi io vi ho pubblicato con estremo ritardo come al solito dicendo siamo in campagna non ci sono pericoli perché tutto cintato non è così non è così perché non avevo preso in considerazione che i gatti scusate sono in condizioni pessime ultimamente ma non avevo preso in considerazione che i gatti anche tra di loro si azzuffano quindi è cosa è successo che una sera pepito come lo conoscete voi in realtà spoiler è una femmina quindi è pepita sono passate tre settimane nel frattempo tre settimane che è con noi e si era abituata già a uscire di giorno stava fuori e quando noi eravamo lì fuori comunque che potevamo controllare dove fosse cosa facesse eccetera si stava già ambientando a stare fuori tutto bene e anche una sera è rimasta fuori è rimasta fuori fino a che a un certo punto non sentiamo due gatti che litigano in campagna succede spesso furiello anche se era in casa noi sentivamo gatti che non erano nostri fuori che litigavano però sapendo che appunto c'era pepita fuori siamo usciti di corsa io e paolo e abbiamo trovato pepita sanguinante con una zampetta che non appoggiava quindi siamo andati d'urgenza al centro veterinario e io sono andata anche con molta leggerezza perché succede che le bestie si facciano male ne ho avuto tante e me ne sono successe di ogni vivendo in campagna eccetera quando il veterinario mi ha detto vado a fare una lastra e torno ed è tornato e mi ha detto è da amputare io sono scoppiata a piangere davanti al veterinario un po' per i sensi di colpa perché dicevo ecco se era in casa non succedeva eccetera eccetera un po' perché comunque non sapevo a cosa andassi incontro ora registro questo video adesso è successo da 24 ore e poi molto probabilmente ve lo pubblicherò più avanti quando avrò delle notizie un po' più certe perché adesso non so bene come andrà a finire allora la situazione è questa adesso ve la mostro pepita è stata morsicata su una spalla e gli ha preso il nervo ha bucato il nervo che comanda la zampa ve la spiego proprio così a parole mie e quindi non ha più sensibilità a una zampina davanti e e quindi molto probabilmente sarà da amputare perché? perché i gatti a differenza degli esseri umani non hanno la cognizione di non poter usare quella zampa quindi mi dice vivendo in campagna uscendo di casa o anche stando in casa rischia di farsi del male senza accorgersene e a quel punto poi si peggiora la situazione ora appunto sono passate poco più di 24 ore la cosa importante è che la ferita guarisca che non gli vengano ulteriori infezioni quindi siamo sotto antibiotici siamo andati sia ieri che oggi a fare le punture di antidolorifico e di antibiotico da domani gliele farò io a casa e verrà controllata ogni tre giorni dal veterinario e dall'ortopedico ogni tra quattro giorni andiamo perché deve ancora raggiungere il chilo pesa ieri pesava 750 grammi ieri aveva la febbre altissima ma sicuramente dovuto all'infezione cioè dovuto alla ferita oggi fortunatamente febbre non ne ha le cose importanti erano la febbre che mangiasse, che avesse appetito e che facesse i bisogni lei fortunatamente ha superato bene queste 24 ore tenuta sotto controllo H24 io così adesso sta dormendo e quindi niente l'unica cosa è che adesso deve stare immobile quindi è segregata poverina dentro la sua gabbietta con il cibo con acqua e cibo poi quando piange la metto nella sabbietta fa i bisogni e la rimetto nella sua gabbietta adesso superiamo queste 48 ore per vedere come va la rivisiteranno per capire se c'è stato un lieve miglioramento se l'ematoma si è sgonfiato perché comunque ha questo livido molto importante quindi deve sgonfiare deve fare il suo corso e poi superato le ipotesi sono che se gli viene un'infezione gli viene qualcosa che è da amputare urgentemente per evitare che si espanda l'infezione si estenda si espanda l'infezione se invece vediamo che va tutto bene come io mi auguro allora abbiamo un po' più di tempo per amputare anche perché è veramente veramente piccola quindi anche l'ortopedico mi dice fare un'anestesia lavorare con un gattino così piccolo eccetera eccetera e questa è la situazione di oggi vi aggiornerò vi terrò aggiornate se c'è qualcuno di voi che ci è passato vi prego mi dia conforto perché io sono due giorni che sono uno straccio ce l'ho solo da tre settimane tra l'altro è talmente piccola che non siamo riusciti a trovare il collare elisabettiano piccolo che le vada bene ieri ho girato tutti i negozi di animali della mia città non sono riuscita a trovarlo non sono riuscita a trovarlo su internet o almeno che arrivasse in tempi brevi perché comunque deve tenere il collare per 15 giorni e magari ordinandolo sul sito che mi arriva tra 10 giorni non sono riuscita a trovarlo quindi abbiamo adattato il collare che ci ha dato il veterinario la misura più piccola che avevano oggi ne ho comprato cioè ieri subito ne ho comprato uno su amazon che adesso spacchetto e vediamo se può andare lei sta bene devo essere sincera lei sta bene sto solo io che sono straccio lei non sente dolore che è la cosa che mi preoccupava di più lei il veterinario dice che non sente niente perché comunque non sente dolore e mangia e dorme non ha però anche oggi il veterinario l'ha trovata migliorata ha detto che comunque è molto vispa gli ho detto sì sì lei vuole giocare solo che ha una zampa non ce l'ha l'altra rimane su due quindi si cappotta poi io cerco di tenerla ferma il più possibile però se Gin sa vicina li soffia le soffia quindi incrociamo le dita incrociatele anche voi per noi ci vediamo col prossimo aggiornamento pepi ciao vero che stai meglio oggi? vero? era una ferita non si vede niente tanto è tutto pelo basta stiamo bene adesso andiamo andiamo in gabbia vi aggiorno vi aggiorno prima di andare a dormire io sono già pronta per andare a dormire ma volevo aggiornarvi allora sono passati cinque giorni dal video quindi sette giorni dall'incidente siamo stati al veterinario per la visita di controllo io sostengo che stia migliorata e anche il veterinario mi conferma che è migliorata però sembrerebbe che ancora non abbia sensibilità alla zampa io ho notato che comunque ad esempio quando è nella sabbietta o si deve arrampicare da qualche parte utilizza la zampina però anche il veterinario mi dice bisogna capire se la utilizza come una sorta di abitudine cioè se utilizza solo la la spalla e non la zampa insomma siamo un attimo così adesso sono tornata a dormire nel letto perché per le prime tre notti ho dormito sul divano come vi dicevo lei stava nella gabbietta e ogni volta che mamma mia io sono sempre prena e ogni volta che che piangeva la mettevo nella sabbietta invece adesso ho adibito il bagno per lei quindi lei è chiusa nella doccia però ci sta non piange nella doccia dove le ho messo la sabbietta in un contenitore un po' più piccolo l'acqua e le crocchette e così non sta nel nel trasportino ma sta nella doccia che è uno spazio un po' più ampio considerate che lei è grossa così quindi per lei è uno spazio grande e le ho messo anche qualche giochino quindi durante la notte sta lì e anche durante il giorno quando noi non siamo in casa che non riusciamo a controllarla e ci vediamo settimana prossima col prossimo aggiornamento io per il momento a me sembra migliorata non voglio illudermi quello che ho detto anche al veterinario non voglio illudermi però mi sembra migliorata la ferita sta guarendo e oggi gli hanno tolto la crosticina io continuo a disinfettarla mattino e sera mattino e sera continuiamo a dare l'antibiotico e settimana prossima abbiamo un'altra visita di controllo e ci diranno se amputiamo se facciamo una semplice operazione o se rimane così che è la cosa forse più improbabile ci aggiorniamo al prossimo video ciao ciao fanciulle aggiornamento oggi sono molto più serena è passata una settimana poco più perché l'ultimo video l'ho fatto mercoledì scorso oggi è giovedì quindi è passata una settimana un giorno io avevo notato io Paolo gli amici che frequentano casa abbiamo notato i miglioramenti di pepita di giorno in giorno e sia che ho fatto morire da ridere che sono entrata nella sala nella saletta e sia il veterinario che la l'ortopedico che è una dottoressa quando hanno visto ho aperto la gabbietta hanno visto ma può essere cresciuta così tanto in una settimana e poi l'hanno presa gli hanno fatto fare gli esercizi che sono notevolmente migliorati rispetto alla settimana scorsa e quindi mi hanno guardato si sono guardati e hanno detto lastra subito hanno fatto la lastra e non so come spiegarvelo a parole praticamente allora fate conto che questa sia la zampa intera ok lei gli si è spaccata e messa così in questo tratto però gli si è già formato un callo osseo quindi abbiamo detto aspettiamo ancora qualche giorno che si riuniscono vari medici amestisisti ortopedici fanno una riunione tra medici veterinari e decidono cosa fare sicuramente non amputiamo sicuramente non amputiamo perché lei è cresciuta oggi pesa un chilo ha raggiunto il chilo e sta molto bene la ferita non si vede più perché nel frattempo è anche ricresciuto il pelo la ferita è a posto non c'è più crosta non c'è più nulla e adesso se riesco ve la faccio anche vedere perché si è andata a nascondere per dormire si nasconde ancora perché è cucciola e e quindi oggi sono molto più serena adesso aspetto una telefonata nei prossimi giorni appunto dal veterinario che mi dirà come e quando operare e e la opereranno nel senso che gli romperanno questo pezzo di calo osseo che si è formato per rimettere insieme la zampa mettendo un chiodo questa dovrebbe essere l'operazione l'unica cosa devono valutare appunto tra medici essendo molto piccola avendo a malapena raggiunto il chilo adesso se l'anestesia se essendo micro fratture essendo molto piccoli gli ossi tutte queste cose qua allora hanno detto che si riuniscono valutano un attimo come procedere però non si amputa dice amputa vabbè comunque non gli tagliano la zampa che è già secondo me una cosa positiva io me la terrai anche così poverina solo che giustamente sta riprendendo sensibilità però gli rimarrebbe la zampa molto più piccola perché molto più corta rispetto alle altre tre e quindi continuerebbe a zufficare per tutta la vita quindi portando anche dei disturbi comunque eventualmente ad altre zampa tutto un casino però oggi sono molto più serena molto più serena poi ormai fa parte la famiglia nel frattempo c'è una gin con la dermatite che si gratta ma gin è un altro capitolo un video a parte su gin e la sua dermatite va bene ragazze vi lascio e ci sentiamo con i prossimi aggiornamenti perché qua io registro di settimana in settimana poi vi farò un video unico per farvi capire questo mese praticamente che stiamo vivendo però dai oggi sono già molto più serena dell'ultima volta al prossimo aggiornamento eccoci è passata un'altra settimana e stiamo andando dal dottore e più fatti vedere ho paura che mi scappi eccoci no 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 stai giù stai giù stai giù scherzavo scherzavo stiamo andando dal dottore a fare una visita di controllo che non servirà a nulla cioè la vuole conoscere un altro ortopedico poi dobbiamo tornare settimana prossima per fare una visita un po' più approfondita oggi è proprio un mordi e fuggi quindi mi muovo anche se siamo in un quarto d'ora in anticipo vado che mi fa passare tra un appuntamento e l'altro giusto perché questo nuovo ortopedico la vuole controllare che sarebbe poi quello che la va a operare la vuole conoscere poi dopo vi aggiorno ecco mi sono rientrata in casa la gatta sta nel ancora nel trasportino perché sta dormendo quindi la lascio lì perché è manocazziata deve stare a riposo il più tempo possibile non ce la si fa non ce la si fa perché comunque è una gatta di due mesi che vuole giocare quindi tenerla a riposo non è poi così facile comunque è stata semplicemente una visita di controllo perché una delle ortopedi che la voleva conoscere l'hanno fatta camminare per vedere appunto se muove la zampina eccetera da quello che mi hanno spiegato i gatti come i cani avendo quattro zampe non due come noi esseri umani che per noi sarebbe più difficile ma è loro avendo quattro zampe se una ha un distacco quindi è un po' più corta fino al 20% rispetto alle altre non è un problema quindi ci rivediamo tra una settimana noi ormai andiamo tutte le settimane abbiamo preso tanto ormai lei l'ha capito va là si prende delle coccole infatti dicono che sia bravissima perché ormai ci ha rinunciato e andiamo tra una settimana e faremo di nuovo la lastra perché l'abbiamo fatta la scuola l'abbiamo fatta tre settimane fa la settimana scorsa la rifacciamo cioè praticamente ogni due settimane facciamo una lastra per vedere appunto il processo come stiamo andando avanti e decideremo decideremo o settimana prossima oppure tra tre settimane tra si poi ci sarà una visita di controllo e poi una lastra decidiamo entro quindi entro tre settimane decidiamo se operare quindi spaccare risistemare l'osso con un chiodo e a quel punto mi hanno detto che dovrà stare ferma per tre settimane un mese perché se no rischia di spostare i chiodi quindi non dovrà saltare non dovrà correre dovrà stare praticamente immobile sarà da ridere altrimenti la teniamo così perché io gli ho detto guarda non ne faccio una questione estetica ma neanche il mio veterinario ci mancherebbe gli ho detto una questione estetica non me ne frega niente se zoppica un po' non mi interessa l'importante che non senta male che non comporti crescendo dei problemi e quindi lo valuteremo strada facendo nel frattempo settimana prossima non ci sarà l'ortopella dottoressa che c'era oggi ortopedica ma ci sarà un altro dottore ortopedico che non è l'ortopedico che l'ha vista la settimana scorsa perché comunque loro si vogliono consultare infatti si è fatta foto video e gliela ha mandati poi loro si inconsultano tra di loro e decideranno e quindi niente capelli zozzi adesso vado a lavarmi e niente non so se pubblicarlo o aspettare ancora queste due settimane va bene è un processo abbastanza lungo sono tre settimane ormai direi dall'incidente io ho perso il conto ma direi di sì perché abbiamo fatto due settimane di antibiotico più una sì quindi sono quasi tre settimane giovedì e domani no tra due giorni quindi tra due giorni sono tre settimane e adesso piangio perché vuole uscire si è svegliata va bene devo riatrezzare il bagno per lei e fare in modo che stia più possibile chiusa dentro al bagno infatti il problema è che adesso ho imparato a saltare nella vasca quindi dove cacchio la chiudo in camera non posso perché salta sul letto in sala salta sul divano in bagno salta nella vasca la casa è finita non so dove chiuderla vabbè vado a ponderare ciao fanciulle al prossimo aggiornamento vi dobbiamo aggiornare io oggi malissimo ragazzi è una settimana terribile perché sono passata dal mal di schiena tre giorni bloccata con la schiena ai giramenti di testa stamattina mi sono svegliata con i giramenti di testa quindi sono qua che adesso ho pranzato ho preso la pastiglia cerco di farmeli passare non so bene come ma vi volevo aggiornare perché ieri siamo andati per l'ultima volta dal veterinario ortopedico questa volta era un uomo che ha visitato Pepita le ha fatto tutti i test l'ha vista camminare e anche secondo lui dice che sarà un gatto normalissimo è vero amore? sì ovviamente avrà una zampina più corta dell'altra di poco però l'osso si accavalla quindi la zampina è più corta ma tutto bene quel che finisce bene non eravamo partiti a dover tagliare questa zampa è vero? glielo ha detto anche il veterinario gli fa sei un gatto fortunato ma in effetti i gatti hanno sette vite e soprattutto come dice il nostro veterinario ci pensa madre natura con i gatti è andata bene siamo contenti più che altro perché per lei sarebbe stata veramente una tortura doverla operare poi tenerla steccata ferma immobile per un trasse di mano un mese sarebbe stato perché lei sta crescendo vuole giocare gioca con gin si cercano ormai i cani e i gatti sono diventati una cosa sola mangiano dalla stessa ciotola bevono dalla stessa ciotola ci fanno tutto insieme tutto insieme però no dobbiamo essere sinceri Gin è diventata brava ha capito qual è la ciotola del gatto e non ci mangia quindi io lascio le crocchette lì e lei non le tocca strano perché invece quando avevamo furi non gliene fregava niente la prima cosa che faceva andava a mangiare le crocchette di furi e invece quelle di Pepita non le tocca però hanno la stessa ciotola dell'acqua perché tanto erano due separate e Pepita beve in quella di Gin vabbè non so se è una cosa che fa bene fa male si può fare ditemelo voi io tanto bevono lì e lei è iperattiva gioca tutto il giorno cioè o gioco o dorme non è che fa altro è piccolina quindi ci sta mi scava tutti i tutte le terre cioè tutta la terra nei vasi quindi quando siamo sul terrazzo lei scava 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 abbiamo un quello che era era un tronchetto della felicità non lo è più è triste questo tronchetto lei scava tutto il giorno il suo gioco preferito adesso è l'acqua gli ho fatto il bagno non mi ricordo se nei vari video ve l'avevo detto gli avevo fatto il bagno con test con il mio migliore amico l'avevamo fatto il bagno da lì un amore per l'acqua quindi non puoi lasciare un bicchiere sul tavolino perché lei con la zampina ci gioca finito di fare la doccia di fare il bidet eccetera di fare la vasca da bagno che devi chiudere la porta o asciugare tutto perché altrimenti lei va a giocare con l'acqua le piace le piace e niente è andata bene così pazza quella è la cuccia di la cuccia il tappeto di natale di vedete quello era un tronchetto dove quello era un tronchetto della felicità prima che arrivasse gin no scusate pepita e vedete tutte le foglie per terra ecco questo è il suo gioco tutto il giorno tra l'altro ieri ho chiesto al veterinario mi ha detto di farlo assolutamente giocare col tiragraffi tutto il giorno perché le fama le fa bene per rinforzare il muscolo per la spalla eccetera vi sembra un gatto che tre settimane fa doveva essere amputato e niente questa è pepita ciao fanciulle ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao